Ciao a tutti e benvenuti all'altro appuntamento delle mie storie. Guardiamo il nostro libro delle storie e guardiamo il nostro indice che provato ci nasconde di queste bellissime storie. Questo? Ah, giusto, una delle più belle. Un gattino che si chiamava Lorino. Un gattino che si chiamava Lorino. C'era una volta un gattino. Riseva nel lago e mio papà l'ha raccolto e la portò a casa. E mio fratello lo chiamò Lorino. Storia molto bella che questo Lorino era il maletto della mia migliore amica. L'ha risegnato lei. Quindi, come ben sapete, come ben avete capito, questo è Torino. Ciao!